La barriera che mi fa più paura è quella culturale. Il traguardo delle Paralimpiadi per me è grazie agli altri, soprattutto al mio allenatore, a tutto lo staff che mi sta dietro, alla federazione, più a quelli che credono in me che io stessa, pensandoci. Un desiderio al di là dello sport sarebbe tanta inclusione, non solo su disabilità, ma anche sulla carnagione, sui gusti, sulla diversità, su tutti i colori del mondo, penso. Non lo so. Per me lo sport rappresenta tanta disciplina, tanto sacrificio, tanta pazienza, mamma mia, soprattutto la pazienza. Rappresenta un modo per conoscere se stessi, perché grazie allo sport tu riesci anche a conoscere te stesso.